Allora io faccio una brevissima introduzione per dare poi la parola ai nostri amici, per mi chiedervi in questo modo, visto che in un qualche modo sempre di argomenti linguistici si occupano laddove la questione linguistica sta diventando sempre più un grosso problema per quanto riguarda il patrimonio della comunicazione nel mondo. Oggi noi presentiamo quest'Atlante che era stato pubblicato già precedentemente dall'UNESCO, l'abbiamo pubblicato ovviamente in italiano, cercheremo peraltro di pubblicarlo anche in altre lingue per quanto più possibile, soprattutto per una motivazione che è quella che riteniamo che bisogna mettere al corrente di questa tragedia un po' quante più persone possibili e per questo ovviamente faremo ogni nostro sforzo. Calcolando che è uno sforzo comunque di un'associazione senza scopo di lucro, fatta da persone che ogni anno mettono il loro piccolo contributo perché queste cose si facciano e anche la traduzione, che anticipo subito un tema, l'abbiamo fatto il meglio possibile, alcuni termini probabilmente non saranno perfettissimi nella traduzione italiana e per questo ovviamente è rimasto un po' un lavoro aperto e la sua diffusione l'abbiamo immaginata sostanzialmente attraverso Internet, per due motivi, non solo questo nel senso anche del contributo che può avvenire da invece linguisti di vaglia italiani e non rispetto alle denominazioni delle lingue stesse, ma anche e soprattutto perché la diffusione sia la più capillare possibile senza necessità di recarsi in libreria o d'altro. Tra l'altro stiamo pensando di mettere la disposizione su Internet o addirittura gratuitamente o comunque certamente con una spesa davvero minima, questo credo che sia uno sforzo da apprezzare e spero che abbia il suo esito positivo. Dicevo la questione delle lingue, in questo trante troverete la denuncia che gran parte, l'UNESCO parla del 50% come stima delle lingue a rischio scomparsa entro questo secolo, in realtà ci sono delle cifre molto più allarmanti, ad esempio quelli di Michael Krauss che è dell'Università di Fairbanks in Alaska che parla addirittura del 90-95% della distruzione linguistica nel mondo entro questo secolo, ma insomma certamente il problema è davvero grosso. La questione ancora più grave è questa, nel senso che è difficile rendere conto alle persone della morte di una lingua, perché di fatto non si hanno, come dire, dei corpi o delle foto da esporre, mentre per la scomparsa di una specie animale ciò accade, si può dire ecco questo era l'animale oppure questa era la pianta che ora non c'è più, sostanzialmente per le lingue accade un processo molto più articolato, nel senso che le persone in realtà continuano ad esistere molto spesso, però la loro lingua, la loro cultura, la loro tradizione scompare. E' un po', facendo un paragone un po' forte, quello che poteva accadere ad esempio pensando a una sorta di bomba N che era negli anni 50 stata ipotizzata per distruggere solo le cose animate e non gli edifici. Diciamo che questo è quello che accade un po' quando muore una lingua e quando muore una cultura. Un'altra cosa che vorrei aggiungere, senz'altro, è un ringraziamento ai due parlamentari della Margherita che ci hanno permesso di utilizzare questa sala, signor Alberto Giacchetti e Andrea Colace, scusate, e quello che adesso faccio è senz'altro quello di dare la parola, tanto per cominciare, al professor De Mauro. Bellissimo, ma dunque ci sono due giornalisti qui presenti, possono forse voler fare delle domande per orientare oppure parlo brevemente? Di solito se hanno voglia le fanno alla fine. Se hanno voglia le fanno alla fine. Allora, io proverei a distinguere dinanzi a questa iniziativa vari livelli l'intenzione della traduzione e dell'associazione Esperanto. No, è morto il microfono. Ah, così comunque se... È di registrazione. Ah, ecco, scusi, non avevamo capito. Allora, distinguere tra l'intenzione dell'associazione Esperanto, l'intenzione dell'UNESCO e del responsabile principale di questo atlante, la realizzazione, anche come la traduzione devo dire, ma la realizzazione del proposito dell'UNESCO e poi quello che forse più ci interessa, lo stato effettivo delle cose per quello che devo evocare. L'intenzione dell'associazione Esperanto è ottima, io sono molto d'accordo, pur non essendo un fanatico dell'esperantismo, sono d'accordo su questo tipo di iniziative, che l'associazione promuove. Potete? Ma tutto è religioso, sì. Proprio mi ha chiesto prima una giornata, mi ha chiesto se le crede in l'esperanto, insomma sembra una domanda oltre dal concilio di Nicea, no, non credo in niente, insomma, in pochissime cose, tra cui non c'è l'esperanto, non c'è neanche l'italiano, insomma. Ma neanche noi parliamo. Ma anche, no, di fatto, neanche noi parliamo. Seconda cosa, l'intenzione dell'UNESCO. L'UNESCO ha percepito grida d'allarme che vengono a tutte le parti e, come si racconta nell'introduzione al libro, a un certo punto ha raccolto queste grida e ha cercato di procurarsi una sintesi totale, proiettare in un atlante le cose che sappiamo sul deperimento, chiamiamolo così, delle lingue nel mondo. In realtà, questo lavoro, in parte si è avvalso, ma insomma, a mio avviso, potrebbe essere fatto in modo più accurato e più integrale, avvalendosi fino in fondo del contributo di un centro che esiste dal, al cominciato a lavorare, in epoche remotissime, per alcuni dei presenti, anche perfino per me, cioè nel 1951, è il centro Etnologue di Austin, nel Texas, Etnologue, diretto da una brava studiosa, partita giovanissima, ormai molto anziana, Barbara Grimes, Grimes, che di anno in anno ha fatto un lavoro mostruoso e difficile, che è quello di censire le lingue del mondo. Questo non è facile, perché bisogna capire, andare sul terreno in qualche modo, raccogliere informazioni per andare sul terreno e capire quando è che due modi di parlare testimoniano di due lingue diverse e quando invece sono due varianti della stessa lingua. E non ci si può molto fidare dei nativi. Maurizio Agner ci parlerà di casi amazonici e messicani di cui è esperto conoscitore. Più modestamente, una parte degli abitanti di Valmontone è convinta di parlare un dialetto francese. francese. Poi, e favoreggiano di guarnigioni francesi venute a Roma con la prima Repubblica romana di 1700 e rimaste, non si sa perché. Nulla di tutto questo, scala, scala. Naturalmente il Valmontonesi è un dialetto di transizione tra i dialetti romaneschi e i dialetti sociali. francese. Come mai gli è venuto in testa? Ma ne sono convinti. Io ho trovato anche di giovani, una giovane laureana, venendo a chiedermi tanti anni fa, una tesi che poi ha fatto, ma su altra linea, dicendo, lo sai, è un'unclav linguistica francese, Valmontonesi. Alla base c'è il fatto che le parole che finiscono i nomi a conunciare, la parola Valmontone. In Valmontonesi si dicono Valmondo, Valmondo con una nazionalizzazione. Dunque sembra proprio questo francese, ma per il resto è un buon dialetto delle nostre parti. Quindi di qui immaginate su scala planetaria quanto è difficile. Allora, attraverso gli anni, pubblicando ormai di anno in anno, l'aggiornamento in rete gratis dell'identificazione delle singole lingue, con delle schede che qui purtroppo mancano, per cui non si capisce bene di che cosa si sta parlando. Esattamente la parte rubigliana di un'estero. No, 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 è mica pagano il responsabile, non sto dicendo questo, perché se non si dà un minimo di correlo demografico, geoambientale, culturale, insomma tutto rischia di restare nel bago, però rapidissimamente qualche esempio dopo. Allora, se uno prende il repertorio di Barbara Granz, ormai è arrivato alla non so quale cappesima edizione online, se voi andate in rete al sito www.etnologue.com, potete accedere a questa massa sedimentata e verificata perché tra proteste, correzioni, contributi di anno in anno la lista si è affinata, scoprite che le lingue identificate come diverse nel mondo sono 7200, quindi ben più di 6000, lingue naturalmente vuole dire sistemi linguistici, quindi lingue nazionali, lingue ufficiali, lingue letterarie, lingue depoderacci, dialettacci, dialettoni, dialettucci, qualsiasi sistema linguistico con una sua configurazione interna autonoma. Sono 7200, di queste circa 2500, soltanto si può dire, sono scritte, cioè sono legate a una tradizione scritta, questo è importante perché significa che c'è una scuola, c'è un'istruzione e voglio dare però un dato se non… perché nei giornali fa molta notizia, muoiono le lingue, caspita, grandi titoli, ma non fa notizia il fatto che nel 1900… no, nessuno se ne importa, ogni tanto vedo ah, le lingue muoiono, inglese… e poi finisce, no, nessuno ne fa niente, è questo, è chiaro, però nel 1975 le lingue che avevano una tradizione scritta erano meno di mille, poi sono diventate 1500, poi sono diventate, finalmente, 2500, cioè è vero che c'è un problema di minaccia della sopravvivenza delle lingue, ma è vero che c'è un contromovimento planetare che, caspita, di cui gli europei, i sociologi, di cui si è resa conto, si sono resi conto un po' le confessioni cristiane, che hanno anche fatto con problemi di evangelizzazione, in Italia c'è stato un grande ritardo, che ci fosse questo altro movimento di riscoperta dei diritti, anche linguistici, delle identità culturali e di sforzi sparsi in tutto il pianeta per consolidare questa identità, che è un fenomeno importante, questo non è stato molto chiaro. Ma va bene, vedete, sto già parlando l'altro. Allora, voglio dire, buonissima l'intenzione dell'UNESCO, forse in contatto più sistematico estretto con i dati disponibili del centro, ci avrebbero orientato altrettanto, forse meglio, nel senso che delle 5 mila lingue affidate soltanto al parlato, sarebbe stato non difficile vedere, attraverso i dati della Gramis, quali sono le lingue con una base demografica sufficiente, larga, di 10 mila, di 5 mila, e quali quelle affidate a piccolissimi gruppi di parlanti, quasi piccoli, con i nuclei familiari, in qualche caso addirittura si contano sulle unità di una madre. Queste lingue sono quelle tutte quante, certamente, a rischio, in un mondo come quello che abbiamo lasciato che si costruisse. Che dire, certo è che bisogna lavorare per chi parla queste lingue. E qui voglio tornare all'intenzione, perché qualche volta, ho avuto molto a che fare con i movimenti di tutela delle minoranze linguistiche, soprattutto in Europa, qualche volta si ha la sensazione che ci siano dei fatti di micronazionalismo e di feticismo combinati. Ma questo è un fatto europeo che non planetario. Nel senso che la preoccupazione è salviamo la lingua. Ma, e qui lo si dice bene, e io su questo concordo, il problema è salvare chi parla le lingue, cioè salvare i suoi diritti linguistici, salvare i suoi diritti alla parola. Come si fa? E lo sappiamo. Altro bel libro dell'UNESCO, che qui non vedo menzionato, Bilinguismo e educazione, di uno studioso canadese, William McKee, e di uno studioso catalano, un rapporto di sintesi, Miguel Siguan. Il titolo è Bilinguismo e educazione, è uscito in spagnolo, inglese e francese, in le tre lingue dell'UNESCO, e poi è stato tradotto in italiano dall'editore Insula di Nuoro, doppiantemente questi dati, perché a qualcuno possono interessare. Dunque, e loro hanno mostrato i libri di una decina di anni fa, con grande ricchezza di dati, quanto è importante, sotto tutti i profili, l'editazione bilingue e se è possibile plurilingue delle bambine e dei bambini. Allora, questo è il terreno, cioè se vogliamo che qualcuna delle lingue più a rischio sopravvive, dobbiamo offrire alle bambine e ai bambini che parlano quella lingua ancora, o agli adulti che hanno dei bambini che rischiano di non parlare più quella lingua, delle istituzioni culturali e scolastiche in cui persista l'UNSO della loro lingua e ci si apra alle grandi lingue di comunicazione con termini. Ci si apra nel senso che ne si apprendono. Questo in Italia dovremmo saperlo, l'abbiamo imparato sulla nostra pelle, perché voi sapete che continuiamo a parlare al 60-62% uno dei dialetti italiani, ma abbiamo imparato l'italiano perché nella pratica, nonostante le indicazioni contrarie per un secolo del Ministero della pubblica istruzione, in realtà abbiamo continuato a cercare di imparare l'italiano e salvare i dialetti. quando questa pratica ha potuto venire alla ribalta dell'insegnamento senza vergogna negli anni 70-80-90 i progressi sono stati enormi e ora ci ritroviamo conservando ancora i dialetti, conservando e parlando al 95% se sembrerebbe secondo l'Istat ormai parlando tutti gli italiani. Un'ultima notazione, salvando i dialetti. Sull'attendibilità di alcuni dati è chiudo. Abbiamo bisogno di una recensione critica che accompagni in Internet questo lavoro, meritorio per tanti aspetti, perché qui si scopre che in Piemontese o in Romagnolo sono a rischio di estensione. Cioè sarebbero parlate di cui i bambini che i bambini non sono più. Chi gli ha dato queste informazioni? Dio solo lo sa, lo sa il professore. Forse è molto meglio. Mi sembra di chiedergli, ma chi gli ha detto questo? Non gli possiamo chiedere che è morto. È morto, poveretto. Allora, vieni una volta a Sant'Arcanzio di Romagna, vieni, vengono i tuoi eredi a mangiare delle ottime tagliatelle, stai in una trattoria per un paio d'ore e vedi i bambini che parlano. Parlano Romagnolo, naturalmente, finché non si accorgono che c'è lo straniero, allora in quel caso magari parlano inglese e parlano un ottimo italiano. Però questa storia che Lombardo, Piemontese, Ligure, Emiliano e Romagnolo, non si sa perché gli altri invece sembrerebbero tutti per fortuna in vita. Questi cinque sono a rischio di estensione. E' una delle piccole cose che forse, se l'associazione è d'accordo, si potrebbero, non dico emendare, perché se uno traduce il testo è quello, ma accompagnare con qualche noticina di… c'è una lingua che si chiama francese che nessuno più conosce, misangarde, messa in guardia, è vero. Scusate se ho parlato troppo, però… Ma figuriamoci. No, in attività rispondo subito a questo. L'associazione è ben d'accordo, il problema è l'UNESCO che non è ben d'accordo, nel senso che il contratto fatto con l'UNESCO è di una rigorosità assoluta, nel senso che anche aggiungere un paragrafo in più o in meno… ma qui do anche un'altra spiegazione, cioè del perché poi alla fine, sapendo che qualche e qualche più di lacuna ci sia in questo Atlante, abbiamo invece avuto come riferimento quello UNESCO, perché in realtà è quella l'organizzazione mondiale dove ci se ne deve occupare, nel senso che ovviamente non ci se ne può occupare su Internet, sono i governi che devono cominciare a pensare seriamente a questi argomenti e quindi è giusto fare queste critiche, ma certamente riportarle all'UNESCO. Questa è l'unica cosa che possiamo fare perché appunto abbiamo riscontrato di una rigorosità estrema. Allora, io adesso darei la parola al professor Vedovelli, se c'è qualcuno che deve andar via posso anche fare un diverso ordine, però io ho pensato poi il professor Castorina e perfino per finale gli scoppi d'artificio di Nier appena venuto dal Messio e ci racconta un po' le cose sul campo. Orientativamente abbiamo per ciascuno dei relatori circa 10 minuti e un quarto d'ora e a questo punto do la parola ovviamente a come avevo detto al professor Vedovelli. Grazie. Tutto da Mauro ha ricordato un insieme di condizioni che rendono viva una lingua, sono condizioni leggero-ambientali, segnotiche, bio-linguistiche, socioculturali, politiche. Ora, l'insieme di queste condizioni di possibilità per la vitalità di una lingua mi sembra che rendono, che creino un doppio effetto. Da un mato una certa qual difficoltà di previsione meccanica circa gli esiti della vitalità di una lingua. Dall'altro una certa contraddittorietà di spinte che consentono a questa lingua e ai suoi utenti di vivere la lingua e ai suoi utenti di usarla. E questa situazione di contraddittorietà di condizioni nel grado di vitalità di una lingua sono rese particolarmente complesse in una situazione mondiale che i sociolinguisti, a seconda dei modelli teorici e interpretativi, da un lato definiscono come mercato mondiale delle lingue, oppure un nuovo ordine linguistico mondiale. Allora, il concetto di mercato mondiale delle lingue sembra far prefigurare un libero, un libero stato in cui le lingue, nella loro assoluta libertà espressiva, sociale, geometra, eccetera, possono tra di loro interagire conquistandosi fette di pubbliche, quindi aree di espressività e di uso e di utenti. Ma noi sappiamo che questa libertà nel mercato e nel mercato del ego non esiste. Allora, il modello alternativo è quello che parla di un nuovo ordine linguistico mondiale, significare una geratizzazione delle posizioni delle lingue con una lingua dominante, l'inglese, e tutte le altre lingue subordinate e quindi loro sì, a rischio di estinzione. A me sembra che l'uno e l'altro modello non diano sufficientemente conto di una certa qual autonomia della dimensione linguistica, anche rispetto a certe interpretazioni che applicano modelli economicistici o politici sulle lingue. Prendiamo ad esempio il caso italiano come esempio di questa difficoltà di previsione sul grado di militarità e di contraddittualità delle spinte che agiscono. Il caso italiano, temerlo a ricordare il fatto che almeno il 60% dei cittadini italiani può usare il dialetto o comunque può avere una frequentazione col dialetto, sia attivo, sia, non dico in tutte le abilità della competenza, ma insomma c'è ancora una larghissima fascia di popolazione. D'altro rato noi abbiamo vissuto, noi come cittadini di questo Stato, di questa rubia, abbiamo vissuto negli ultimi decenni una doppia rivoluzione linguistica. La prima, quella che è stata la nascita dell'italiano come lingua d'uso, comune, parlata in modo con caratteristiche abbastanza omogenee da Milano a Palermo. E spesso si è visto che, insomma, si è cercato di dire che alla nascita di questa lingua, non imposta dall'alto, ma io ritengo profondamente carata dal basso, cioè dai cittadini italiani nella nuova società contemporanea che hanno dovuto trovarsi, inventarsi i mezzi per conquistarsi espressività e comunicazione. Ebbene, a volte mi sembra di capire che esistono persone, anche studiosi, che dicono, ah, alla diffusione dell'italiano corrisponde la morte dei dialetti. Allora, l'italiano sembrerebbe condizione di fine di vitalità dei dialetti, e non è vero a mio avviso. Però, da tra l'altro, l'italiano è considerata lingua minoritaria, nel processo internazionale, nei progetti anche europei di ricerca. Non so, facendo riferimento alle polemiche, alle giornalate di un paese di mesi fa, mi sembra, sull'uso della lingua nell'economico dell'istituzione comunitaria. No, ma se andiamo a vedere i progetti comunitari sulle lingue, la lingua italiana rientra nelle linee di ricerca tese a sostenere le lingue minoritarie. Allora, una lingua che può essere considerata capace di uccidere le altre lingue nel suo stesso corpo sociale, in realtà poi può vivere una condizione di minorità. E questo è già contraddittorio, ma è in questo spazio di contraddizione che si può agire in termini di sviluppo delle potenzialità espressive dei vari codici e sistemi che entrono in contatto fra loro. Rimaniamo sull'italiano. L'italiano è una lingua minoritaria, però perché così viene considerata, perché poi se sentiamo, ripeto, tanti anni, l'italiano sembra scomparire, mi sembra proprio più di vent'anni fa qualcuno scrisse sul Corriere della Sera che era bene non studiare più l'italiano, non parlare più e imparare tutti quanti gli inglesi. Si fa più di vent'anni, adesso, più di venticinque. C'è un titolo di focus di tre anni fa, è ricorrendo. Quatt'anni fa tutto in inglese, era preciso. È ricorrendo. Ecco, ma io dico che è difficile fare la visione su questo, vista la complessità delle spinte che agiscono su questi fenomeni. Quindi l'italiano sembra essere un lingua minoritaria, sì, piccolo gruppo di persone, 60-70 milioni di persone nel mondo, sono le statistiche degli inglesi del 2000, dicono che siamo allo stesso livello del vietnamita come lingue di nativi ed è, a mio avviso, una stima ottimistica. Sì, certo, siamo lingue minoritaria, ma intanto siamo la quarta lingua più studiata nel mondo. Siamo la seconda lingua più diffusa nella comunicazione sociale del mondo, cioè nell'insegno, nelle scritte dei negozi, non c'è città del mondo per le cui strade non ci siano negozi con insegni italiani. Poi torniamo in Italia, avevamo fatto i turisti a New York o a Tokyo e ce la mettiamo delle scritte inglesi nei negozi, ma se andiamo a Tokyo o a New York, abbiamo una, dopo l'inglese, la seconda lingua più visibile è l'italiano o, come dicevamo, per far conturio, una lingua simile italiana. Quando gli stranieri si inventano parole, devono assomigliare all'italiano, perché? Perché l'italiano non è tanto lingua di comunicazione, lingua franca della comunicazione internazionale. In questo caso è lingua identitaria, lingua che viene scelta per la sua capacità di creare identità. Parlavamo di una bevanda che i tedeschi sono inventati, che hanno, pare che sia un cappuccino freddo, non ha avuto coraggio di bere, non ne so io. E però si sono inventati la bevanda, ma hanno dovuto anche inventarsi un nome, il nome è freddoccino, che non è una parola italiana, è una parola che deve somigliare nella struttura, questa è la cosa più interessante, alla struttura della lingua che comunque è legata culturalmente all'idea, al paradigma del buon mangiato e del buon bello. E quindi sì, siamo lingua minoritaria, ma nello stesso tempo abbiamo questa capacità di attrazione, fortissima. E poi, seconda rivoluzione linguistica che la nostra società sta vivendo, è la presenza delle lingue immigrate, lingue che si sono inserite nel nostro tessuto sociale e linguistico e che vivono e di cui abbiamo tracce, soltanto se fossero meno ciechi e meno sordi, vedremmo le tracce di queste lingue nel nostro tessuto quotidiano, sentiremmo in autobus o camionato strano i suoni di queste lingue, non vogliamo vedere nessun tipo, siamo noi utenti che nel gioco dei rapporti sociali con altri cittadini mettiamo in atto degli atteggiamenti e dei comportamenti che possono mettere a rischio l'uso di queste lingue. Allora, l'uso di queste lingue, chi le usa le lingue immigrate? C'è un bel paragrafo appunto in cui si parla del fatto che una lingua scompare nel momento in cui viene, o è a rischio di distinzione nel momento in cui viene, diciamo, tolta dal suo contesto d'uso naturale e inserita in un contesto altro, linguisticamente, socialmente e eticamente. Quante sono queste lingue, per le loro condizioni di vita o di vitalità o di estinzione in Italia? Il dossier Caritas, non l'ultimo, né il penultimo, ne sembra il terzo ultimo, né le raccontate 120, non lingue che sono passate in Italia al seguito dello spostamento migratorio, ma lingue che sono arrivate e grazie ai meccanismi e ai momenti migratori sono radicate nel territorio. Allora, noi di queste persone che usano queste lingue, non sappiamo niente, sappiamo pochissimo, cominciamo a sapere. E noi dobbiamo interrogarsi su quali siano le condizioni per far sì che questi usi linguistici rimangano. Il modello che dice, il modello sociolinguistico o di linguistica dell'immigrazione che dice, nel passaggio della prima e della seconda generazione, la lingua muore, non è un modello sufficientemente adeguato a fare l'identità linguistica delle seconde generazioni dei giovani di origine immigrate in Italia. L'identità linguistica è stata la quale io spessissimo non so decidere quale sia la lingua 1 o la lingua madre, perché se sono nati in Italia è l'italiano, o è la lingua della loro famiglia, o è in realtà un continuum di idiomi nei quali questi bambini, ma non soltanto neri, questi giovani, costruiscono la propria identità linguistica e personale e sociale e culturale. Allora, a me sembra che dobbiamo interrogarci, stando dentro casa nostra, parlando di lingue a rischio di distinzione e di condizioni per loro di vitalità, per questo aspetto, dobbiamo interrogarci appunto sulla condizione delle lingue degli immigrati e delle lingue immigrate. Allora, metodologicamente è chiaro che queste carte giolinguistiche sono a scala troppo grande, non possono dar conto, è chiaro che poi c'è soltanto lingue romagnole, migliora pianotese, mi chiedo perché non in Veneto, forse perché in Veneto c'è un maggiore, non si sa, oppure tutto il meridione che non è segnato dall'ambiente. Ecco, io ho l'impressione che con strumentazioni più raffinate e negli ultimi anni mi sembra che si assista ad una ripresa di studi con prospettiva geolinguistica, la linguistica del paesaggio urbano, oppure la statistica linguistica unita alla geolinguistica, crea delle raffinatissime procedure metodologiche di cui una piccola testimonianza è quella che si mette in atto a Siena, dove esiste un centro di eccellenza della ricerca, che ha come compito quello di creare un osservatorio dell'italiano diffuso del mondo e delle lingue immigrate. Allora, questo centro produce carte geolinguistiche dettagliatissime a livello di quartieri, utilizzando la suonitazione informatica, geosatellizia, quello che vogliamo, utilizzando poi una metodologia banalissima, quella di andarci a cercare le lingue, con un, tu lo chiamo, un camioncino, un camioncino attrezzato, un laboratorio mobile di relazione sociolinguistica, col quale si va nei singoli territori a cercare di capire qual è lo stato degli usi linguistici e il vero e effettivo stato della condizione pluriline di una perda. Sintetizzo. Questo libro mi sembra un fatto molto importante e molto bello, è un lavoro di sintesi che spinge a riflettere sulla difficoltà di prevedere l'esito di una lingua dalla fotografia sociale attuale, dal momento che una lingua vive entro condizioni complicatissime che creano spinte anche contraddittorie. Si può agire su queste spinte, su ciascuna di queste condizioni, politica, socioculturale, scolastiche, ve li scolrendo, per consentire agli utenti diritto all'espressione. Qualche giorno fa l'ha affermato che per far entrare gli immigrati in Italia dovrà essere necessaria una verifica della competenza linguistica. Questo non è diritto all'espressione. Questo non è diritto all'espressione. Un problema che prima ancora, che è politico, è di etica. Questo è quello che si faceva nella Bibbia, quando veniva chiesto di pronunciare una certa parola per identificare gli immigrati, ci volete. Allora, io penso che ci sia prima di tutto la necessità di garantire un diritto all'espressione. E su questo, su questo piano, benvenute le carte dei diritti linguistici, però per esempio la carta dei diritti linguistici che proprio l'UNESCO in qualche modo ha promosso e raccolto quella del Pen Club, a mia conoscenza non si è mai trasformata alto che in una affermazione generale. Il principio non è mai trovato delle concretizzazioni in termini normativi nei vari paesi. Perché scritta l'espressione significa poi toccare problemi, sicuramente politici. grazie a tutti i giorni di Siena, come annunciato, ora do la parola invece a professor Castorina, che è il direttore del Dipartimento di Lingue per le Politiche Pubbliche della Sapienza. a lei il microfono. Allora, questo attualmente mi sembra che sia interessante la traduzione italiana, perché uno, davanti agli occhi, a prescindere dall'esattezza dei dati e dall'esattezza delle carte geografiche, che, a prescindere dall'esattezza che sono state rilevate, sono davanti agli occhi degli italiani questo problema, che credo sia importante porto, perché mi ricordo che soltanto 8-10 anni fa, quando si parlava di diritti linguistici in ambiente accademico, sembrava che si parlasse di cose un po' bizzarre, forse che non fossero di nostra pertinenza, quando si parlava di tutela delle lingue, ci trovavano nella stessa situazione. Certamente, quando si fa un'opera di diverse dimensioni, i problemi ci sono, io mi ricordo che in un concorso universitario, leggendo un libro ben fatto del resto, che però parlava di tutte le lingue degli inglesi nel mondo, conoscendo abbastanza bene alcune aree, ho trovato un'infinità di inesattezze, inesattezze dovute a problemi oggettivi, se prendiamo la federazione nigeriana, non si sa, ci sono tre gruppi di studiosi locali, anche molto bravi, molto appassionati, però alcuni sostengono che le lingue sono 400, altri che sono 270 o 280, altri che sono 200, cioè proprio in locale, quindi i problemi sono veramente notevoli. Pare che la vittoria tra queste cifre sia quella di attestarsi sulle 250-260 lingue, ma per un solo fatto, come dice un amico linguista, che ci sono circa 250 etnie e 250 sindacati delle comunità, quindi probabilmente quello è il punto di riferimento per stabilire quante sono le lingue. E quel che è vero, però, che mi raccontava il mio amico Ola Rotini, che lui e la moglie, che apparteniamo a due comunità, a due etnie non più lontane di 30 chilometri, dovevano parlare in Pigeon English. Lui conosceva bene l'inglese, ma la moglie usava questo inglese adattato, questo Pigeon English, che lo stesso loro team chiamava Rotten English. E' un inglese interessante perché non è l'inglese del colonizzatore, è la lingua inglese che viene localizzata e quindi colonizzata dagli africani, in questo caso dagli africani dell'Africa occidentale. La domanda che è stata fatta prima, che è fatta Vagano prima, posso dare una piccola risposta. Non avevo parlato di Esperanto, anche se è una lingua che da molto tempo mi interessa e mi incuriosisce, ne ho anche parlato. Ma facendo un'intervista a uno dei più grandi linguisti sudafricani, a Città del Capo, lui è il direttore del Pansalb, che è l'Ellisbord sudafricano, cioè il comitato più importante del comitato, che ha circa 5.000 linguisti, dal Coglio esiste 5.000 linguisti perché è Sudafrica, non Sudafrica, di Mandela, ha investito moltissimo nella formazione linguistica e appunto nella standardizzazione delle lingue africane, adesso ci sono 11 lingue ufficiali, due sono di derivazione europea, l'inglese e l'africanese, e altre nove sono locali, le hanno dovute standardizzare e stanno lavorando anche per modellizzare, questo è un problema che ci può dare anche qualche spunto di riflessione per quello che si dovrebbe forse fare in Italia. Ognuna di queste lingue sta locali, si sta proiettando in una prospettiva internazionale, si sta internazionalizzando in qualche modo, oltre ai vari registri, collogiale, popolare, informale, formale, colto, aulico, eccetera, c'è un registro in cui si cerca di dare una dimensione internazionale sia alle procedure di comunicazione, sia appunto al lessico e alla sintassi, semplificando molto la sintassi ricchello molto il lessico. Ma cito proprio da Neville Alexander, perché mi è stata data questa intervista a stampa recentemente, proprio per quanto riguarda l'esperanto, e lui cita l'esperanto, dice abbiamo recentemente parlato di un certo tipo di esperanto, e dice esattamente così, è certo il sordo esperanto, e ho scoperto che questa è una questione che dovremmo riconsiderare, cioè un interesse per l'esperanto manifestato da questo linguista sudafricano, perché c'è di più dietro a questa questione, è tradotto da una delle stesse del corso, quindi lo sto leggendo in diretta, perché c'è più dietro a questa questione di quanto non sia generalmente accettato e soprattutto dai linguisti. Credo che l'idea di un linguaggio dei segni sia eccezionale unitamente a qualcosa come l'esperanto o a un altro mezzo di comunicazione neutrale, quindi lui stava ipotizzando in pratica un tipo di formazione linguistica che include la lingua dei segni e poi spiega anche il motivo, in modo che anche i sordi possano interagire anche con chi non è sordo, è una sorta di esperanto, si cita l'esperanto come modello. Dell'esperanto mi ero interessato anche durante un convegno che abbiamo fatto alla Sapienza, sottolineando l'aspetto che l'esperanto può funzionare da modello, da unità di misura, prepara gli studenti a prendere coscienza delle caratteristiche essenziali delle lingue, e grazie alla sua struttura decolare, il suo carattere agglutinante e scomponibile in elementi morfologici combinabili facilita e sviluppa l'attitudine allo studio delle altre lingue. E mi riferisco qui ai noti esperimenti di Paderborn, dell'Istituto di Pedagogia Cibernetica dell'Università di Paderborn in Germania, dove appunto gli studenti che hanno fatto un anno di esperanto e due anni di una lingua, al terzo anno ne sanno di più di chi ha fatto soltanto tre anni di una lingua, questi sono dati che mi sono stati forniti, che sono penso comuni e noti a tutti. Il problema, dicevo, dell'italiano, io sono ottimista come appunto i miei colleghi, l'italiano non corre i rischi, tantomeno il romagnolo, tantomeno la mortadella, che anche se non si chiama mortadella si chiama Bologna in inglese, quindi in tutto il mondo la conoscono come Bologna. Però dobbiamo anche, mi sovveniva una cosa molto divertente, che spesso mi è capitato almeno tre volte che un americano o uno straniero mi chiedesse come si dice pizza in italiano, e mi risposto pizza, questo appunto riferendomi a quello che sono detto della grande quantità di insegne e di presenza dell'italiano nella cultura mondiale, che però non sempre viene percepita come italiano, come cultura italiana. Saranno eccezioni, ma mi è capitato anche questo. I dialetti, l'italiano non corre i rischi, però dobbiamo studiarlo meglio. Io quando insegno l'inglese mi rendo conto che non capiranno mai l'uso dell'articolo in inglese, perché, e qui ci sono studenti anche del master, perché non conoscono, non sanno niente dell'uso dell'articolo in italiano, se uno gli dice, senti, ma dammi un'idea di come gli italiani usano l'articolo, innanzitutto non sanno neanche bene dire, scritti laureati, non sanno dire esattamente, non sanno neanche cominciare a descrivere proprio la struttura dell'articolo, e poi probabilmente non sanno organizzare, articolare un discorso sull'uso dell'articolo in italiano, tantomeno potrebbero imparare. L'uso dell'articolo in una lingua composita, un sistema di sistemi linguistici, come il quale disse proprio Tullio De Mauro in una conferenza all'Università dell'Atla, un sistema di sistemi linguistici che è l'inglese, quindi già la complessità, c'è la complessità delle varie componenti che agiscono sull'uso di questo. Ma faccio solo un esempio, quindi studiare meglio l'italiano, studiare meglio il vestito italiano, spesso uno studente universitario italiano non capisce un testo inglese perché rimane a bocca aperta davanti a parole come l'esilience, perché non sa cosa significa l'esilience dell'italiano e non ha gli strumenti linguistici e concettuali per derivarne il significato dal contesto, lo stesso per tante altre espressioni. Quindi il problema credo che si ponga in questi termini. La questione delle lingue a rischio di estinzione è una questione grave, perché effettivamente, come è stato sottolineato, una lingua che si estingue significa una estinzione di una cultura, una estinzione di un modo di vedere il mondo, di concepire il mondo, di un sapere, un sapere che è importante anche per noi, che spesso sottovalutiamo. Quindi mi rallegro veramente per questa iniziativa, perché tutte le iniziative che vanno in questa direzione, nella direzione di sottolineare l'importanza di una formazione almeno bilingue, ma possibilmente trilingue, possibilmente molti lingue, e che nello stesso tempo mettono il virus un problema fondamentale, quello della pari dignità di tutte le lingue, senza distinzioni di Stato, di condizione, di numero di parlanti. Quindi il diritto non solo alla sottolinea, ma al rispetto, alla tutela, allo sviluppo e all'evoluzione di tutte le lingue che ancora in qualche modo si sono salvate. Grazie. Beh, ringrazio il professor Fertolina, sono anticipato, ho per ultimo la parola al professor Regnare e pongo una riflessione, prima di dargli la parola. Bedovelli parlava ad esempio sostanzialmente del mercato delle lingue, dove sembrerebbe che tutta la lingua avrò possibilità di affermarsi e così via. Beh, ci sono un po' due cose le quali effetti. Uno, che come tutti i mercati, a meno che non ci sia raggiunga, c'è bisogno di una sorta di antitrac, o di garante come per quanto riguarda altri sistemi di comunicazione. Questo, siamo molto lontani dall'intravedere, certamente è una questione difficile, forse potrebbe essere una sorta di figura totalmente nuova da ripensare rispetto a quello che c'è nell'economia o nella comunicazione. Certamente c'è questo tipo di problema, siccome evidentemente, sì, continuiamo a parlare di vice-linguismo, però di fatto nei paesi anglofoni si insegna, ovviamente si apprende l'inglese e solo l'inglese. Guarda che in Bretagna non ha obbligo di studio, per esempio, della lingua straniera, come sapete tutti. Quindi questo crea poi ovviamente tutta una serie di scompensi, sono anche economici, ma che sono ovviamente anche delle fortune, ad esempio un dato del professor Granno, cioè esiste pare una sola carta di economia linguistica in Europa, tra l'altro un paese non fa parte dell'Europea, in Svizzera, in Ginevra, e viene il discorso, c'è stato un rapporto al Ministero francese dell'istruzione, e venga fuori che praticamente gli europei non anglofoni danno, producono, per quanto riguarda la Gran Bretagna, l'1% del PIB, che non è poco, insomma, di questi tempi di magra economia. Allora, la parola con il Sornierve, come citavo dal messo, che ha studiato un po' di cose sul campo, questo però è un po' di cosa sul campo, questo però è un po' di cosa con la mia domanda, quella è una domanda di cui, la mia domanda, la mia domanda è una domanda. Bene, ringrazio Giorgio Pagano per l'invito, realizzato un po' in estremis, via internet, mentre mi trovavo sulle coste dell'Oceano Pacifico del Messico, a qualcosa tipo 38 gradi medi durante un mese, lavorando appunto per un programma di rafforzamento e di possibile recupero di una lingua oltretutto citata in questo atlante, sulle coste dell'Oceano Pacifico del Messico, appunto da cui sono rientrato meno di 24 ore fa, per cui, altro che fuochi d'artificio, credo che dovrete mai rianimarmi tra un po' anni. Dunque, io ho iniziato da molti anni, ero studente di primo anno di linguistica con il professor De Mauro e di Giorgio Cardona, partì per l'Amazzonia moltissimi anni fa, più di 30, non diciamo esattamente quanti, più di 30, partì per l'Amazzonia per un lavoro, diciamo un programma di volontariato e mi rendi subito conto di quanto le relazioni di classe interne a stati di varia natura, più o meno dittatoriali, più o meno democratici, comunque relazioni di classe, il colonialismo interno e in modo immediato, ma vedremo subito, tra un attimo, effetti paralleli, l'imperialismo avessero avuto effetto su lingue e culture locali, comunque in qualche modo minoritarie e comunque in ogni modo oppresse e represse. Anche la Chiesa non era esterna tutt'altro da questo processo e stesso anzi collaborava in modo attivo per la depressione linguistica locale. Quindi entrai subito, appena in cominciare a imparare qualcosa di più, perché a quell'epoca parlo dal lontano, nel 1968 era ancora un po' ignorantello, però andai imparando altre cose, anche di linguistica, anche di questioni di relazioni tra lingua e cultura e cominciai a attuare attivamente in interventi pratici, appunto in grado di arginare l'abbandono e l'estinzione e che poi con l'andare degli anni hanno avuto via via una ratifica e un appoggio anche da alcuni degli uffici delle Nazioni Unite, a cui in qualche modo l'UNESCO asserisce, sono emerse tematiche come queste che hanno prodotto poi quest'Atlante, anzi mi dispiace se l'ho saputo qui, adesso che il professor Wurm è scomparso non lo sapevo, ma l'ho conosciuto bene in vari di questi consensi internazionali in cui si discutevano tematiche di questa natura. Quindi ho lavorato abbastanza e continuo a lavorare, anzi tra un mese dovrò ripartire per l'Amazonia del Brasile per un programma delle Nazioni Unite in grosso, che sta funzionando piuttosto bene, in favore dell'educazione bilingua interculturale di una popolazione grossa amazzonica, in questo caso non in pericolo di estinzione, però se non si attua, se non si contrarresta in qualche modo il rullo compressore dominante messo in movimento da infinite forze, certamente superiori a popolazioni locali, il destino si capisce bene quale sarà. Io attraverso gli anni ho avuto esperienze anche piuttosto forti, per esempio ho visto, ho convissuto, ho anche scritto un po' una specie di racconto sulla vita dell'ultimo parlante di una lingua, ormai ridotta a una specie di silenzio, da monolinguismo, perché la sua lingua non è che era un dialetto simile a un altro dialetto per cui era comprensibile, o era quello o non era nient'altro e quindi non poteva più comunicare nemmeno con i nipoti di casa sua, perché ormai era l'unico residuo parlante di questa lingua e ci sarebbero molte storie di cui parlare. Qui nell'Atlante, adesso che l'ho avuto in mano questa mattina, ho potuto dare un'occhiata e varie delle realtà a cui faccio riferimento sono anche citate, in qualche modo potrei dare i dati, i riferimenti esatti. Ma vorrei raccontarvi una storia, appunto, brevemente per capire cosa sono le relazioni interne di forza e di relazioni interne a diversi stati, a diverse realtà e di reazione anche da parte di popolazioni, che spesso poi fanno richieste appunto per programmi di appoggio alla loro lingua, alla loro cultura, che poi possono avere seguito in interventi internazionali o di varia natura. Tanti anni fa mi trovavo nella regione dell'Amazzonia, dell'Equadore e del Perù, dove più ho lavorato in questa direzione, appunto per mettere su scuole e programmi di istruzione e libri e materiali audiovisivi in lingue locali e fra un gruppo indigeno abbastanza grosso, qui anche nel Atlante è menzionato, c'è gli Shuar e gli Achuar e loro, pensate, un gruppo di loro, un gruppo dei loro leader, avendono ormai una presa di coscienza politica delle relazioni di forza interne e culturali, anche in stati in cui magari non si va tanto per il sottile su certe cose, presero un atteggiamento forte, in un certo modo estremo, ma forse loro non si resero conto che era in qualche modo una prospettiva esterna abbastanza provocatorio. Elaborarono un libro con due di loro che qualcosa sapevano di inglese, anzi questo l'ho scritto in un articolo, in una rivista che il professor Castorina conosce, una rivista di anglistica, ho raccontato questa storia in cui loro produssero un libro piccolo in cui passavano direttamente dalla loro lingua indigena locale, parlata da una minoranza in terre amazzoniche, direttamente all'inglese, scavalcando lo spagnolo. Qual era l'operazione politica ideale? Dicevano in qualche modo, abbiamo capito che voi che ci opprimete, che siete i nostri repressori, che dite che la nostra lingua non serve a niente, che siamo dei selvaggi, a vostra volta avete dei padroni che stanno più in là, allora sapete cosa vi diciamo? Noi impariamo direttamente l'inglese e vi scavalchiamo, ovviamente agli orecchi e agli occhi di un, anche io ho avuto una certa militante sperantista quando ero un po' più giovane, loro non sapevano nulla dell'esperanto, non avevano nessuna idea dell'esistenza anche di lingue internazionali, di una certa speranza appunto verso altre possibilità, per loro i padroni dei loro padroni parlavano l'inglese, quindi perché non passare direttamente dalla loro lingua locale all'inglese? C'è un libro ormai rarissimo, ormai introvabile, su cui ho scritto appunto un articolo analizzando tutto il contesto socio-politico in cui l'operazione un po' estrema è avvenuta. In anni più recenti, in tutt'altri contesti storici e sociali, ognuno di questi sono molto, ogni situazione di estinzione linguistica dovrebbe essere analizzata nel suo dettaglio storico e sociale, ma appunto sulle coste dell'Oceano Pacifico del Messico, da cui vengo, una popolazione molto combattiva, anche questi che ho parlato fino adesso sono molto combattivi, un'altra popolazione molto combattiva del Messico meridionale, arrivando quasi alle coste del Guatemala, sono alle frontiere del Guatemala, i sapotecchi, anche loro hanno conosciuto una cosa del genere, ovviamente senza sapere degli altri, hanno fatto una specie di ciclo stilato così, in cui si parla dalla loro lingua locale, la loro varietà dialettale, locale, lo sapotecco direttamente all'inglese. In quel caso addirittura pensando in un altro senso, tanto prima o poi non ci resterà altro che migrare, cioè tentare la migrazione verso gli Stati Uniti. Quindi pensate quali dinamiche sono messe in movimento e nel mondo ve le potrei raccontare, naturalmente, a centinaia, perché un po' il mondo l'ho girato e conosco queste situazioni e poi appunto ho conosciuto attraverso gli anni non solo studiosi che hanno studiato realtà di questo genere, ma anche realtà locali che ciascuna ha una sua storia, una sua condizione, in cui ci sono anche richieste pressanti in questo senso. Tanto è vero che nel passato mi sono riuscito a mettere in movimento qualcosa, ogni volta che o attiro qualcuno che sia rettore o abbia le responsabilità di un'università, gli lo ripeto sempre, lo dissi l'anno scorso proprio nel programma Lingua Madre dell'UNESCO, al professor Gianni Puglisi che è il segretario generale dell'Ufficio Italiano dell'UNESCO, nonché rettore di un'università del nord Italia. qui abbiamo Massimo Vediovelli, ma insomma lo dico di solito, lo ripeto, sono stati dei programmi in cui l'università specialmente interessata a queste tematiche lo dimostri e con i nostri attuali Chiari di Luna è particolarmente difficile, ma è possibile farlo, di adottare una lingua e cultura minoritaria dando appoggio a programmi locali di rafforzamento dove ci sia l'interesse o la richiesta locale e a volte anche forzando un pochino la mano, perché purtroppo per le normali relazioni di oppressione e repressione, mantenimento all'oscuro di tutto quello che sono le dinamiche, la gente a volte neanche se ne rende conto, ma adottare una lingua minoritaria e fare dei passi di appoggio che consistono in primo luogo, quello che menzionava il professor De Mauro, tipo l'educazione bilingua interculturale, produrre dei materiali, perché il primo passo stesso in giro per il mondo passa come molto anche nei nostri dialetti e non è che ci sono aspetti di somiglianza molto forti, si passa appunto per l'impressante convincimento che quello che tu hai imparato a parlare da bambino, quello che tu, i tuoi genitori, la gente della tua famiglia sa, sono valori e conoscenze inutili, quindi passa per il disprezzo, per la riduzione, se vuoi diventare, come ho sentito dire tante volte, un vero essere umano, forse dovresti imparare da tale lingua e in quel caso è successo quello scavalcamento che vi raccontavo prima, sapete che diciamo, non impariamo lo pagano, impariamo direttamente l'inglese, quindi anche in qualche modo delle aberrazioni dal nostro punto di vista, però che seguono questa logica. Quindi una proposta che potrebbe essere messa in moto è che varie istituzioni a diverso livello attuino in questa direzione di adottare una lingua minoritaria, una lingua della cultura minoritaria, prendendo o facendo i passi, a volte anche piccoli, ma necessari in questa direzione e questo è un passo veramente possibile. Nel mondo ci sono tante iniziative sulle questioni delle lingue minoritarie, la prossima che io sappia, la lingua minoritaria è in estinzione, voglio dire, sarà a Viterbo a fine settembre, all'unità di Viterbo a fine settembre, a cui naturalmente parteciperò dopo il ritorno dall'ultimo intervento che vi ho detto che comincia fra un mese, ci sono tante iniziative, vedo che molto se ne parla, ma iniziative concrete in cui qualcuno prenda un atteggiamento concreto di quello che si può fare, anche con forze relativamente limitate, non abbondano, quindi qua lancio anche quest'idea dell'adottare una lingua o cultura minoritaria. Grazie. Diamo l'oppusione, vi ringrazio veramente tutti, anche peraltro per aver recitato l'esperanza di cui, come avrete notato, io non ho affatto parlato, quindi per questo vi ringrazio doppiamente. Senz'altro per una brevissima conclusione mi dà proprio le ultime parole del tuo sognare, in effetti quello che ci siamo resi conto, noi che partecipiamo ormai dall'inizio degli anni 90 a tutto quello che si muove all'inizio e alla fine delle organizzazioni internazionali deputate, a cominciare appunto dall'UNESCO, questo esattamente è quello che abbiamo notato. Chiacchiere a monte, finalmente si è arrivato un'attrante, ma appena tocchiamo rapporti che impingono poi rapporti con gli stati, certamente dei problemi ci sono, io le ho accennate, nel senso che si parla di mercato delle lingue, però in realtà poi non c'è una sorta di antitratto linguistico. C'è questo enorme rischio che peraltro ha delle connotazioni sulle quali non abbiamo ancora sufficientemente riflettuto, nel senso di quelle economiche, accennavo al fatto che siamo rimasti molto meravigliati che in tutta Europa, che ha 25 stati e 20 lingue ufficiali non esiste una carta di economia linguistica, abbiamo cominciato ad avere queste cifre proprio in questi momenti, in quest'ultimo anno o due. Un altro elemento che ancora non abbiamo visto sul piatto è la questione del diritto, nel senso che io qui mi domando e domando ovviamente da un punto interrogativo senza risposta, ma è logico però pensare che nel momento in cui in questi paesi si comincia a mettere l'obbligo dell'inglese e poi sia tutto diritto di chi anglofono veda la nascita a pretendere che la lingua la si sappia, e che in un possibile contesto, sia nazionale che internazionale, che cosa si viene a creare? Questo secondo me è un'altra riflessione sugli aspetti di carattere del diritto, forse non sono stato sufficientemente chiaro perché ve lo faccio in posto, però ad esempio immaginiamo la questione Tribunale internazionale contro i crimini di guerra, stranamente gli Stati d'America non lo hanno firmato. Allora, se questo è il tentativo, stranamente nel senso di aderendo a quella che dovrebbe essere un ideale di grande democrazia, quindi c'è un fenomeno che poi si crea di affermazione del proprio diritto nei confronti del mondo, questo attraverso quest'altro fenomeno acquiescente nei confronti della lingua inglese, porterà quindi anche a quest'altra problematica, sono problematiche estremamente grosse, estremamente importanti che ad esempio non abbiamo finora visto trattare granché così come il rapporto tra economia e lingua. Ringrazio tutti per la cortesa attenzione e a risentirci o comunque a ricomunicarci sul sito che è linguainternazionale.it. Ah, c'è una domanda? E come no? Aspettavamo. Sì. La farà qualcuno in particolare? Devo rispondere. Sì. È indicato qui, ma è indicato a poter sviluppare il bilinguismo. Il terreno su cui questo si può fare è l'educazione scolastica nelle età tradizionali e l'educazione degli adulti. Educazione nella scuola, educazione nei centri di formazione degli adulti. Bisogna creare questi centri dove non ci sono. È necessaria una politica degli Stati favorevole allo sviluppo dell'istruzione. Lei che è un giornalista sa bene che non tutti gli Stati sono favorevoli a questo. E siccome è anche un bravo giornalista, sa che ci sono stati favorevoli che si sono visti tagliare i fondi, l'ha raccontato Stiglitz, tagliare i fondi dal Fondo Monetario Internazionale o dalla Banca Mondiale, se continuano a spendere per l'alfabetizzazione primaria. Quindi, certamente abbiamo davanti noi un problema di sensibilizzazione culturale nelle aree sviluppate dove questa informativa, nelle aree in cui ci sono giornali e mezzi di comunicazione e un po' di gente che li legge. Voglio dire il nostro paese, per esempio. Ma poi abbiamo un problema di riconoscimento del diritto linguistico alla propria lingua o alle proprie lingue, giustamente ha detto Redoelli, identitarie. Qualche paese va in questa direzione, non è possibile, in Svezia è così. Quali sono le lingue che vuoi studiare a scuola oltre allo svedese, oltre alla lingua del luogo? E quindi c'è un problema di legislazione e c'è un problema di investimento economico nella creazione di scuole e di alfabetizzazione primaria laddove questo non c'è. E' di sostegno. E questo è il famoso insegnare a pescare, perché a questo punto il ripianamento del debito è certamente, di molti paesi sottosvillupati, è certo un nobile atto simbolico, ma si ricreerà il debito se tu non gli insegni gli strumenti per produrre, per produrre meglio, per non farsi devastare e rapinare e quindi se non gli dai istruzione, consapevolezza, nella loro lingua e nelle altre naturalmente. Non è che ci mancano i programmi dettagliati, perché io citavo prima quel libro abbastanza bello del Siguain. Né chi? Sappiamo cosa bisognerebbe fare. È come la base dell'Eta, sono i quattrini che mancano. C'è Ragnarra che voleva aggiungere qualcosa. La questione dei programmi, attuazioni, attività che portino a livelli di consapevolezza locale, a livelli più alti di consapevolezza locale, nonché di sensibilizzazione a problemi di perdita linguistica, perdita culturale, si possono fare in parallelo a programmi ufficiali degli Stati e quindi in qualche modo dribblando, girando dietro il paravento dell'ufficialità e delle richieste ufficiali. Io le cose più, diciamo, di maggior effetto che ho fatto nella mia vita le ho fatte tutte in parallelo e vi assicuro che c'è molto spazio per operare, anche dove sto operando attualmente in Messico, c'è una politica ufficiale, teoricamente di educazione di lingue che poi va a finire come sappiamo, come forse voi non sapete, ma come potrei raccontarvi nel nulla, ma ciò non toglie che invece si può attuare localmente in modo che la gente ci pensi, si organizzi, richieda e addirittura, come ormai in tante parti del mondo stanno facendo, stiamo facendo, contribuisca addirittura loro stessi a produrre loro libri di scuola, loro materiali scolastici nella loro lingua con i loro contenuti che parallelamente ai programmi ufficiali vengono normalmente utilizzati, quindi se noi aspettiamo sempre la ratificazione ufficiale, le richieste degli stati, bene, nel frattempo succederà tutto quello che deve succedere o che purtroppo credo che in larga misura succederà, si può attuare comunque. Questo è stato anche in Messico, c'è stato un movimento di polenica. No, anche in Sud America, in Bolivia, in un sacco di parti, sì, sì, ormai purtroppo mi ho visto in situazioni, si può attuare in tante parti in parallelo, nessuno… Mi chiedo, se i paesi africani si sono visti minacciati in tanti immediato di tutti i finanziamenti, se continuavano a riuscire una vita di restituzione elementare, possono andarci mille politici negativi, no, ci sono tanti… solo per aver presente, sì, ormai, ci sono situazioni in cui si può stare… ma è chiaro… è la stessa cosa, in certe parti si può stare, in certe parti no… e anche in altre paesi… ma c'è… io l'ho sempre fatto e devo dire che… no, voglio dire, stiamo attenti a non dimenticarci l'orizzonte… certo, certo… negativo per le grandi istituzioni, per la politica, consapevole, voluta nelle grandi istituzioni… ma detto questo… certo che si può fare… ma detto questo noi dobbiamo… allora non si può fare… si può fare tantissimo… certo… è appunto… è questo… inizio giusto perché stiamo… è un merito giusto… mi ringrazio tutti… è una votazione però con una loro parte… ovviamente noi spiegheremo un abilinguismo, come tutti hanno detto, però con caratteristica democratica e non economica… certo… di volta… bene… grazie a tutti…